Due piccole imbarcazioni con a bordo 15 e 16 tunisini sono state avvistate stanotte a poca distanza dalla costa di Lampedusa da una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha guidati in porto. In poco più di 24 ore, a partire da sabato sera, si sono registrati complessivamente 11 approdi di migranti. I primi due sbarchi sabato scorso con piccole imbarcazioni con a bordo ognuna 25 persone che sono state intercettate dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. La prima barca è stata trovata nelle vicinanze dell'isola alle 20, mentre la seconda nella stessa area un'ora dopo. I migranti sono stati portati nel centro di accoglienza hotspot dell'isola. Successivamente è stato registrato un altro mini sbarco, in questo caso si tratta di 30 tunisini che sono stati bloccati all'alba di stamane a Calapalme dopo essere riusciti ad approdare direttamente sulla spiaggia con un barchino. Anche loro sono stati trasferiti all'hotspot dove adesso sono ospitati oltre un centinaio di migranti, un numero superiore alla capienza massima della struttura. Complessivamente sono arrivati in 80, ma i piccoli sbarchi sono proseguiti per tutta la giornata di ieri con altri 7 nell'arco delle 24 ore che aveva portato 151 gli arrivi. Dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento delle condizioni meteo, dunque sono ripresi gli sbarchi fantasma con piccole imbarcazioni, quasi certamente messe in mare a poche miglia dall'isola da navi madre. Scatta dunque il piano di trasferimento per evitare il sovraffollamento dell'hotspot. 50 migranti hanno già lasciato Lampedusa con un pattugliatore della Guardia di Finanza, altri 90 verranno imbarcati sul traghetto di linea. Con il doppio trasferimento, temendo anche che l'ondata dei microsbarchi non sia finita, si prova ad alleggerire il numero delle presenze nell'hotspot, dove questa notte erano in 330 circa a fronte dei 95 posti disponibili. Dopo i trasferimenti per Porto Empedocle, nella struttura di prima accoglienza, dovrebbero rimanere circa 190 persone.